In un'analisi della recente vittoria dell'Inter a Bergamo, l'autorevole quotidiano libero ha portato alla luce osservazioni impressionanti che fanno luce sulla straordinaria prestazione della squadra. In particolare l'attenzione si è concentrata su Akan Cialanoglu, che non è solo un centrocampista di talento ma anche un giocatore che si distingue per versatilità e altruismo. Il giornale sottolinea che Cialanoglu è ora su un podio esclusivo che riunisce i migliori giocatori del mondo, e questo non è dovuto solo alla sua bravura a centrocampo, ma anche al suo costante impegno nei confronti della squadra. La sua capacità di eseguire instancabili rincorse e contrasti come un grande difensore della vecchia scuola lo rendono un ingranaggio unico nella squadra dell'Inter. Iscriviti al canale e metti mi piace al video per non perdere le prossime novità della squadra nerazzurra. Una delle giocate più importanti della partita in questione è stato il magnifico passaggio di Cialanoglu ad Armian, un momento considerato la migliore giocata del campionato finora. Oltre ai suoi brillanti contributi offensivi, Cialanoglu eccelle anche nella posizione davanti alla difesa, una notevole invenzione tattica nella carriera di coach Simone Inzaghi. Alessandro Costacurta, una voce rispettata nel mondo del calcio, ha condiviso la sua opinione sulle prestazioni impressionanti di Cialanoglu e Lautaro Martinez. Per Costacurta non è un caso che siano stati questi due giocatori a decidere il risultato della partita. Entrambi affermano che sono leader indiscussi all'interno della rosa dell'Inter. Costacurta sottolinea che Cialanoglu è probabilmente il miglior giocatore del campionato e lo definisce straordinario. Ilogia anche il bellissimo gol segnato da Lautaro Martinez in partita, sottolineando come il contributo di questi due giocatori sia stato fondamentale per la vittoria dell'Inter. La notevole sinergia tra Cialanoglu e Lautaro Martinez, insieme al loro ruolo di leadership, è evidente nel modo in cui modellano le prestazioni della squadra. L'Inter ha nelle sue fila non solo talenti individuali, ma anche giocatori che ispirano e guidano in campo. Adesso vogliamo sapere la tua opinione sull'impatto di Cialanoglu e Lautaro Martinez in squadra. Come vedi l'influenza di questi giocatori sul successo dell'Inter e quali sono le tue aspettative per il resto della stagione? Commenta qui sotto!